Ebbene sì, ebbene sì, dopo aver pubblicato molte foto su Facebook sui suoi manicaretti, ora che arriva l'estate arrivo io e gli faremo un intero video, uno speciale su Antonio in cucina. Dove c'è l'ha il tuo faddale speciale? E' con la musica di sottofondo che ci prepara, col suo mitico faddale. In cucina sono un mago, a letto sono un drago. Perché c'è il prezzo di questa cosa? Io ho fatto un matrimonio e faccio un bel ruolo, e faccio un bel ruolo commerciale. Tu cazzo hai questo un bel maggiore? Cioè, scusa, no, questo l'hai fatto per me perché avevo un paio di direzzi d'autori che mi chiamano Antonio Drago. No, 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 non ci vedo, te la cazzo hai detto, ah? E poi gliel'hanno regalato. Cosa ci prepara questa sera del 5 agosto 2012? Questa sera faremo spagliate allo scoglio, con peperoncino, pomodorini, un po' di pezzemolo, lo raggiungeremo. E' un cuoco ragazzi, è un cuoco. La parodia al maschile, Antonio Parodi. E poi faremo, come se cotto, camperoni, grigliati. Ma antiaderente o con l'acciaio? Sul fornello, con quella padellaria, griglia.